Vito non spegne. Dove sei Roby? Dove sei? Quando c'è quello non devi spegnere. Adesso vado avanti. Come faccio a casa faccio anche il giro. Non è che cazzo. Non è altro che c'ha 40 giolli. Lui c'è un matto di carte con 40 giolli. Ma ora della fine finiscono. Adesso c'è giocati 3. Cazzo c'è ancora 37. C'ha 40 giolli. C'è giocati 3 c'è ancora 37. L'unico pezzettino di legno di 20 trentini l'ho preso sotto. Ti amo. E l'ho pelato tutto. Vai Vito. E' il palvelo. Vito. Vito. Grazie a tutti. 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 Grazie.